Una domanda per il giornale dei romeni d'Italia, quanto sono importanti i romeni come nuovi comunitari che dovrebbero votare? Sono molto importanti, abbiamo fatto anche delle manifestazioni, abbiamo anche dei candidati nella nostra lista civica dentro i romeni. Quindi non sono c'è un problema per la sicurezza? Chi dirà la legge è un conto, chi dirà la legge è benvenuto, non ci sono dubbi. E questo se sono italiani o romeni non cambia nulla, l'importante è che rispettino la legge. Grazie.